12 Ferrari e tante auto storiche hanno fatto tappa a Chiaravalle, linea Battista De Angelis. Allora, suggestiva manifestazione stamani a Piazza Marconi di Chiaravalle Centrale e abbiamo la Scuderia Ferrari Club di Catanzaro. Parliamo con il Presidente. Allora, Presidente, questo, il vostro club, è uno dei club più importanti, più prestigiosi, addirittura non d'Italia ma anche a livello mondiale. E in pratica l'obiettivo è quello di creare le emozioni che suscita sempre una Ferrari, la casa di Maranello. Sì, certo, è bello vedere tante Ferrari insieme. Oggi siamo qua a Chiaravalle su invito dell'ACI storico di Chiaravalle, il club di Chiaravalle. Siamo contentissimi anche di venire qua a Chiaravalle. Certo, il momento non è dei migliori, potevamo essere tante macchine in più, però va bene così, è una passeggiata, né più né meno. Il vostro club da quanto tempo si trova in attività? Noi siamo attivi dall'85. Abbiamo avuto una breve parenza che abbiamo cambiato nome come Rosso Scuderia e poi siamo ritornati al Ferrari Club. Ci troviamo alla quarta posizione a livello mondiale come club. Siamo uno dei club più attivi al mondo, anche di iscritti. Ci muoviamo tanto anche per beneficenza, facciamo tante opere benefiche, ci siamo mostri anche per il Covid. È una passione che la condiviamo con i tifosi, la condiviamo poi con la gente che è sempre contenta di essere qua presente. Stamani dove siete diretti più tardi? Il tragitto dovrebbe essere da San Bruno, sia la Certosa, posto suggestivo, bellissimo della Calabria, anche perché c'è il monastero, la Certosa, che è una delle più importanti, dicono, del mondo. Sì, 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 pochissime, quindi peccato che non possiamo entrare dentro, però sarà una bella esperienza. Allora, naturalmente è presente a questa cerimonia bellissima, suggestiva, come si diceva con il Presidente della Scuderia Ferrari, anche il Club ACS Auto e Moto Storiche di Chiaravalle Centrale. Ecco, quindi questo è un appuntamento quasi annuale. Noi vediamo ogni anno che passano per le nostre vie, per le vie di Chiaravalle. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Stamattina abbiamo fatto questa uscita con le auto, anche le Ferrari, oltre all'automobile, alla ECS e auto e moto storiche di Chiaravalle, che siamo noi. Abbiamo pensato di fare qualcosa un po' di particolare, visto tutto questo periodo del Covid che c'è stato, e quindi siamo stati tutti chiusi dentro casa, timorosi. Adesso non dico che dobbiamo fare gruppi e quindi creare una movida, ma cerchiamo di mantenere le stanze, cerchiamo di mantenere le distanze. Ci salutiamo da lontano, utilizziamo anche le mascherine, ci disinfettiamo spesso le mani e quindi con le dovute cautele ci avvieremo e portiamo a conclusione questa giornata, che dopo questo ingresso qui a Chiaravalle trionfale delle Ferrari e dietro noi con l'auto d'epoca, che poi seguirà anche l'agio storico di Catanzaro, andremo alla volta di Serra San Bruno, tra il verde di Serra San Bruno, anche a rinfrescarci, visto che oggi è una giornata un po' calda, visto che siamo in piena estate, quasi. Poi, che dire, qui abbiamo persone che arrivano da Reggio, arrivano da Crotone, arrivano dalla Mezzia, da Catanzaro, quindi abbiamo, diciamo, un po' quasi tutta la regione che è arrivata qui. Io sono contenta anche delle persone che sono presenti, voglio ringraziare tutti, voglio fare un ringraziamento sia al presidente della Scuderia Ferrari sia al presidente della Gestorica che verrà in seguito. Vi ringrazio, siete sempre presenti a queste manifestazioni e speriamo che vada tutto bene, soprattutto per questo periodo di Covid che abbiamo e quindi speriamo che si possa riprendere l'economia, si possano riprendere gli affetti umani, soprattutto, i contatti sociali, che sono quelli che ci sono mancati più di tutti. Niente, andremo alla Volta di Serra, come vi dicevo, andremo alla Certosi, visiteremo il museo, andremo al laghetto di Santa Maria del Bosco e passeremo una giornata particolare insieme. Bene, tutto qui. Grazie, alla prossima. Ciao. Grazie. Allora, Stefano Fera, l'imprenditore di Chiaraballe, del bar Marconi, lo vediamo dietro di noi, è un imprenditore che partecipa sempre attivamente alle varie iniziative che si susseguono nella nostra cittadina e partecipa attivamente anche alla sfilata di queste macchine Ferrari stamani. Sì, un buongiorno a tutti, un particolare ringraziamento va a questa giornata che è stata organizzata dal nostro Carroccia e grazie anche al Presidente di Canzano della Ferrari. Un piccolo break mattutino che abbiamo voluto dare il benvenuto a tutti coloro di questo raduno ma soprattutto un benvenuto per Chiaraballe. Benissimo, tu sei sempre un organizzatore di queste cose, quindi per adesso c'è un po' di pausa per questo Covid ma speriamo che per il mese di luglio o di agosto si attiveranno qualche manifestazione. Che dici? È vero, speriamo che si possono fare altre manifestazioni e che tutto finisca nella maniera più buona, più bella. Ok, abbiamo qui l'amico Vincenzo Carroccia, con lui parliamo, tu possiedi una Ferrari, quindi meglio di noi. Qualcosa sulla manutenzione, sulla gestione, sulle caratteristiche di queste meravigliose macchine? La gestione va fatta da persone specializzate e non purtroppo dal semplice meccanico e quindi non ce l'abbiamo in zona, andiamo fuori, andiamo a Corigliano, andiamo a Salerno per queste vetture perché bisogna mantenerle costantemente. Allora, la gelateria Peccati di Gola di Caravalle partecipa solennemente, volentieri a queste manifestazioni, quindi stamane mi pare che anche tu offrirai, come il Bar Marconi, una vostra delizia ai proprietari di queste meravigliose macchine. Buongiorno a tutti, io ringrazio ACS, auto-moto storico di Chiaravalle Centrale e la scuderia Ferrari e il loro onore ho voluto deliziarli con una buonissima torta gelato. Grazie